La Vibonese, in attesa di essere ufficialmente riammessa in Serie C, prova a dragare il mercato. I calabresi, infatti, avrebbero un sogno per il reparto avanzato. Si tratta dell'attaccante di proprietà del Catania. Caetano Calile, in foto. L'ex Salernitana e Crotone, è ormai fuori dal progetto tattico etneo, e chissà che non possa sbarcare alla corte di mister Campilongo. Grazie a tutti.